Tre giorni di vaccinazioni non stop qui a Francavilla, si inizia oggi con la fascia degli over 12. Sì, abbiamo iniziato questa mattina alle 8.30, c'è una grande affluenza, la giornata di oggi è dedicata agli over 12, domani ci sarà una giornata dedicata alla fascia pediatrica, 5-11 anni, dopo domani, domenica, per gli over 50. Le vaccinazioni sono riservate ai residenti, domenica anche non residenti, ma con priorità sempre ai residenti di Francavilla. Come ha risposto Francavilla? La risposta è stata superiore alle aspettative, c'è una grande adesione e siamo contenti perché io credo che la vaccinazione sia il modo, forse l'unico modo per tentare di uscire da questa pandemia. Per queste tre giorni di vaccinazioni torna in Abruzzo il Comitato Mani Unite di Padova. Torna non tanto il Comitato Mani Unite per Padova, ma tornano i protagonisti, i volontari, che si sono occupati di questa campagna vaccinale. Il Comitato Mani Unite per Padova, già presente a Chieti, Vasto e Lanciano, in occasione dell'avvio dei tre centri vaccinali, torna a Francavilla lasciando un valore, lasciando il valore di aver costituito un Comitato Mani Unite di Francavilla, i 26 cittadini di Francavilla che continueranno a sostenere il centro vaccinale nelle attività di vaccinazione.